Viene chiamata comunemente legge salvasuicidi perché in grado di aiutare le persone indebitate, disperate a tal punto da pensare di compiere anche gesti estremi. Una via d'uscita offerta dall'ordinamento giuridico italiano che ha introdotto nuovi strumenti normativi che consentono ad organismi formati ad hoc di intervenire per ridare speranza a quanti sono entrati in questo tunnel senza apparente via d'uscita, evitando loro di ricorrere magari all'usura e predisponendo dei piani di pagamento che siano compatibili con le risorse economiche dei debitori. Di questo si è discusso nel primo dei tre incontri formativi organizzati a Trani dagli ordini professionali di avvocati, commercialisti ed esperti contabili scesi in campo nella stessa squadra per dare vita ad un'unica associazione, la OCC, specializzata nella gestione delle crisi da sovraindebitamento. Questa procedura e poi gli organismi che si interessano come quello nostro che abbiamo creato con i commercialisti, l'organismo di composizione della crisi appunto intervengono al fianco e quasi in sostituzione del consumatore cittadino soprattutto perché nei momenti di grave difficoltà, di sbilanciamento delle proprie risorse economiche possa fermarsi diciamo in un certo momento e collaborare con i creditori per stabilire un piano di rientro. Ma per far fronte in maniera efficace alle richieste d'aiuto dei debitori occorre che a gestire le situazioni di crisi siano figure professionali altamente specializzate, per questo è necessario ricorrere alla formazione. Il gestore per poter mantenere questa sua funzione deve necessariamente fare dei percorsi formativi con periodicità biennale proprio perché si tratta di un istituto relativamente nuovo, diverso da quelle delle procedure concorsuali che riguardano le imprese per le quali è necessario confrontarsi, è necessario proprio fare dei percorsi formativi insieme avvocati, commercialisti ed un confronto importante con i magistrati che poi si occupano della materia. Grazie.